Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo a sincronizzare i vari video con l'audio. Cominciamo subito con la creazione di un nuovo progetto. Io l'ho chiamato Sync Audio ed eccolo qui. Come mi sono organizzato? Mi sono organizzato con più ordine possibile, perché se riesco a lavorare ordinatamente farò meno confusione. Calcolate che adesso abbiamo quattro fonti video, perché abbiamo la telecamera numero uno, che era la Sony, la telecamera numero due, una GoPro, una terza telecamera, che era un'altra GoPro, e poi abbiamo la quarta fonte di video più audio, che è lo Screen Recorder, che registra anche tramite il microfono Samsung, che utilizzo per migliorare la voce. Se vi piace la voce che sentite, il microfono Samsung è in descrizione, in link. Ma diamo un'occhiata alle clip, come le ho suddivise appunto. Vedete, Cam 1, Cam 2, Cam 3 e Screen Rec, giusto appunto. Li ho portati tutti all'interno della mia media pool, in modo da poterli avere suddivisi in Cam 1, Cam 2, Cam 3 e Screen Rec. Se non vi sono chiare queste cose, all'interno del corso completo, sul sito www.tomasocodolo.com slash corsi, trovate sia i corsi gratuiti che i corsi a pagamento, in cui avrete magari maggiori delucidazioni, anche in argomenti che durante queste pillole magari salto, o che faccio in maniera un pochino più veloce. Allora, come ci organizziamo? Abbiamo suddiviso le cartelle, appunto abbiamo detto. La prima cosa da fare è beccare le clip che ci interessano. Io in questo caso come ho fatto? Le ho semplicemente colorate, quindi ho preso la mia clip numero 3, in questo caso l'ho presa e l'ho segnalata come gialla. Anche qui ho segnalato la clip come gialla, anche qui ho recuperato una clip, vedete che l'ho segnata come gialla, per andare a segnare una clip, giusto per curiosità, pulsante destro e clip color e gli si dà il colore che decidiamo noi. In questo caso, tipo questa arancione non mi interessa, quindi clip color, clear color e tolgo la mia clip arancione. Anche qui non mi interessa la clip arancione, clip color, clear color, perché mi interessa semplicemente la clip gialla che ho già segnato prima. Ok, come faccio ad unire tutte le clip gialle? Cacchio Tommy, hai fatto più cartelle separate, hai sbagliato. No, in realtà l'organizzazione è utilissima in questa maniera qui. Possiamo o creare una nuova cartella e buttarci dentro tutte le clip gialle, oppure semplicemente dargli uno smart bin, molto più veloce, molto più smart, appunto, dove facciamo add smart bin, lo chiamiamo sync audio, gli diciamo che vogliamo matchare tutto tramite shot and scene, tramite clip color e vogliamo che le clip color contengano il colore giallo. Ok, voilà, crea smart bin e in automatico lui mi ha creato uno smart bin con tutti i file contrassegnati dal colore giallo che si trovano all'interno della mia cartella master all'interno di Media Pool. Quindi a prescindere che siano su sottocartelle, non c'è nessunissimo tipo di problema, lui le becca e ve le riporta all'interno di questo smart bin che abbiamo chiamato sync audio. Ok, ora bisogna portare le clip all'interno della timeline per andare a sincronizzarle. Come facciamo? Semplicemente andiamo a selezionare tutte le clip che avranno lo stesso audio ma desincronizzato, perché una parte prima, una parte dopo, una ha fatto rec subito, l'altra ha fatto rec dopo, eccetera, ma saranno sincronizzabili grazie a che cosa? A quel clap che avevo fatto prima che andrà appunto a rimettere tutto in sincronismo. Pulsante destro e andiamo a create new multicam clip using selected clips. Tac. Gli do un nominativo, anche qui andrò a chiamarlo sync audio 01, frame rate 25 e cosa mi interessa? Mi interessa l'angle sync, voglio che vengano sincronizzate come? Tramite il sound, quindi cliccherò su sound e gli darò create. Automaticamente inizierà la sincronizzazione di queste clip e cosa succederà? Il computer creerà una nuova clip che chiamerà sync e creerà delle altre clip differenti. Vedete che ha creato una cartella che chiama original clips, all'interno della quale ha messo le clip originali, mentre nella master avrà creato la mia multicam clip che si chiama sync audio 01. A noi interessa proprio questo file perché conterrà tutte le clip. Vi faccio vedere, se faccio doppio clic, ecco che mi compaiono i quattro angoli delle clip, vedete? Quindi diciamo una sorta di regia all'interno. Abbiamo due modi per importarle all'interno della timeline. Il primo modo è prenderla e spostarla qui, nella sezione video e audio. La sposto prima qui, così vi faccio vedere il lavoro che ha fatto il computer. Mollo il file ed ecco qui che cosa ha fatto. Vedete che nel reparto video ha suddiviso le mie clip e nel reparto audio ha suddiviso le mie clip. Tutto giallo, per il semplice motivo che gli ho dato giallo come colorazione. Vedete che non partono tutte contemporaneamente, ma sono state sincronizzate perfettamente con l'audio. Facciamole partire per curiosità e vediamo se effettivamente ha fatto giusto. Perfetto, le ha prese tutte. La prima cosa che devo fare... Sentite che c'è l'audio, è tutto perfetto e va benissimo. Allora, vi ho fatto vedere come l'ha strutturato. Io in questo caso in realtà non sono interessato ad avere una multicam clip fatta così. Cioè non voglio tutte le clip visibili, io ne voglio una perché poi voglio fare i miei singoli tagli e andare a selezionare le clip. In questo caso, perché magari a voi interessa invece avere tutte le clip visibili per poterle poi controllare e ritagliare. Quindi, comando Z per tornare indietro di un punto. E invece che prendere la clip e spostarla qui, come ho fatto prima, la sposto direttamente in timeline. Guardate cosa succede spostandola in timeline. Succede che mi dà una singola clip, ma multicam. Difatti, se mi avvicino, vedete che c'è il disegnino qui in basso del multicam. La cosa che potrò andare a fare è andare qui sotto, perché se io clicco play adesso, vedete, è tutto nero fino a un certo punto, perché c'è la sincronizzazione. La prima cosa che devo fare... E poi mi sposto... E gestisco la clip in questa maniera. Come mi devo comportare? Mi devo comportare semplicemente scegliendo innanzitutto l'angolo da cui voglio partire. Voglio partire... Partiamo dall'audio. Dall'angolo che più mi piaceva. Quindi switch multicam angle su 1, 2, 3 o 4. L'audio 2 è l'audio che mi interessa mantenere, quindi partirò con l'audio 2 e poi decido con quale delle telecamere partire. Potrei ad esempio partire con la telecamera numero... Telecamera numero 1 che sarà la telecamera frontale. Ok? Parto dalla telecamera numero 1 e parto da dove? La prima cosa che devo fare... Mi sposto, adesso sono... Vado a chiudere la porta. La prima cosa che vi consiglio di fare è di... E quindi partiamo da qui. E tagliamo tutto quello che c'è prima. Quindi partiamo correttamente da questo punto. Però voi mi direte adesso, cacchio Tommy, ma c'è solo la clip numero 1. Innanzitutto l'angolo dell'audio che mi interessa è il 2. E non lo voglio più cambiare. Cioè io voglio mantenere l'audio angle 2. Quindi cosa farò? Andrò qui... E vado ad attivare le mie multicam. Tac! Perfetto, ci siamo. Adesso posso entrare come voglio... Nella mia regia. Parto. La prima cosa che vi consiglio di fare è di creare un rumore tale da poter... La prima cosa che vi consiglio di fare è un clap. E da poter... Partiamo da qui in realtà perché abbiamo visto che ho fatto un altro errore. Quindi taglio questa parte. La prima cosa che vi consiglio di fare è un clap. Questo rumore ci permetterà di andare a sincronizzare in automatico questa telecamera. Adesso voglio spostarmi sulla telecamera che sta guardando il protagonista, Tommy in questo caso. Quindi mi sposterò sull'angle 2. E clicco su angle 2. Questa telecamera. Questa telecamera. Questa telecamera. Questa telecamera. E l'audio che vedete lì dietro che sta registrando in contemporanea tutto quello che stiamo andando a registrare. Ovviamente qui mi sono dimenticato un pezzo. Quindi... E l'audio che... Ce ne ritorniamo sull'angle 1. Ha un bug... Multicam clip su DaVinci Resolve 16 ha un bug che mi salta un po' avanti. Non l'ho notato... Non l'ho notato adesso mentre lo stiamo facendo. Ma comunque... Vedete che mi sta facendo i tagli perfettamente. Però avrete notato di sicuro una cosa. L'audio non va bene. ...di andare a sincronizzare in automatico questa telecamera. Questa telecamera. Questa telecamera. E l'audio che vedete lì dietro che sta registrando in contemporanea tutto quello che stiamo andando a registrare. In questo preciso momento. Ok, avete visto che non va bene l'audio perché l'audio è stato tagliuzzato come si può ben notare da qui sotto. È stato tagliuzzato come il video. E io avevo detto che volevo invece tenere il mio Sync Audio 1 come principale. Quindi comando Z, comando Z, comando Z. E che cosa andremo a fare? Riprendiamo la nostra Multicam clip. Qui in alto. Multicam. E gli diciamo di andare a gestire non audio e video, ma solo il video. Quindi in questa sezione qui andremo a tagliare solo il reparto video. Partiamo da qui e iniziamo a lavorare. Possiamo farlo anche mentre riprende. Adesso non so se DaVinci Resolve 16 lo supporti perché essendo ancora in beta ha dei problemi. La 15 riesce a farlo tranquillamente. Diamo un'occhiata se riusciamo a farlo. La prima cosa che vi consiglio di fare è un clap. Questo rumor ci permetterà di andare a sincronizzare in automatico questa telecamera, questa telecamera, questa telecamera e l'audio che vedete lì dietro che sta registrando in contemporanea tutto quello che stiamo andando a registrare in questo preciso momento. Ok, quindi abbiamo fatto il nostro cap. Ok, avete visto che mentre stavo facendo la registrazione cliccavo su uno dei vari quattro riquadri e quindi notate che sotto adesso l'audio non è più tagliato ma sono tagliati solo la sezione dei video ed ecco qui che cosa è venuto fuori. La prima cosa che vi consiglio di fare è un clap. Questo rumore ci permetterà di andare a sincronizzare in automatico questa telecamera, questa telecamera, questa telecamera e l'audio che vedete lì dietro che sta registrando in contemporanea tutto quello che stiamo andando a registrare in questo preciso momento. Ok, quindi abbiamo... Bene, questo è il funzionamento della multicam clip. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ovviamente. Se pensate che possono esservi utili questi video date un'occhiata anche al sito www.tomasocodolo.com barra corsi perché proprio lì troverete anche degli altri corsi completamente gratuiti, il mio intero workflow dalla A alla Z e anche una sezione di corsi a pagamento che magari potrebbe interessarvi per iniziare ad intraprendere questo viaggio all'interno di DaVinci Resolve. Se andate ad acquistare il corso ricordatevi che c'è un codice sconto dedicato a chi si becca tutte queste micro pillole che è chiedilo a Tommy, tutto attaccato e a me non resta altro che salutarvi. Ci vediamo con il prossimo video e ricordatevi di seguirmi anche sul canale Telegram che ho appena aperto, sempre chiedilo a Tommy perché ci sono un sacco di offerte interessanti che sto iniziando a buttarvi qui e là. Ci vediamo con il prossimo video, ciao! Ciao!